vai vai inizio che era 4 patata tracchi per termoli Roma swipe risposta di tipo acili a 1 patata tracchi per termoli simbolo simbolo i baci da 1 yeah seconda patata per i baci da 1 seconda patata per i baci da 1 edика piacca patata tracchi per termoli Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.